Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Sale ancora il numero di contagiati in città e da Palermo arriva una nuova ordinanza del governo musumeci, uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento, queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nel provvedimento che entrerà in vigore mercoledì e sarà efficace fino al 30 ottobre. Buone notizie invece in città arrivano dalla fronte scuola alla Paolo Emiliani i giudici, tutti i tamponi effettuati sugli studenti che erano venuti a contatto con la professoressa risultata positiva, sono risultati tutti negativi. Sentiamo. Cresce ormai in maniera costante la curva dei contagi in città, altri due nuovi positivi portano il numero dei contagiati a 39, per entrambi si è reso necessario il ricovero presso l'unità operativa complessa di malattie infettive del Sant'Elia, ad oggi sono sei gelesi positivi al virus ricoverati presso il centro Covid nisseno, 33 invece sono in isolamento domiciliare. Nelle scorse ore intanto è arrivata l'annunciata ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nello Musumeci per limitare il contagio del coronavirus in Sicilia. Il Governo regionale mette in campo nuove restrizioni dopo l'impennata dei numeri dei contagi sull'isola, uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nella nuova ordinanza. Il provvedimento appena firmato entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. Abbiamo appreso che la chiave più importante, ha detto Musumeci, per affrontare questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione degli eventi futuri. La Sicilia non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci tutti, dice il Presidente, soprattutto i più giovani. Mascherina al seguito dunque, quando si è fuori casa, nei luoghi aperti al pubblico, dovrà essere indossata se sia nel contesto di presenza dei più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motorie intense, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività. Nuove misure anche per chiunque entri nel territorio della regione, provenendo da stati UE o extra UE. Per loro l'obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della regione. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia, nei sette giorni antecedenti, la pubblicazione dell'ordinanza a tampone rapido per i soggetti provenienti dai paesi esteri. Sono vietati gli assembramenti, mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperto al pubblico, escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge. Buone notizie intanto in città arrivano dal fronte scuola. Dalla Paola Emiliani Giudici, dove la scorsa settimana si era registrato il caso di una docente positiva, tutti i tamponi effettuati sugli studenti e sui docenti venuti a contatto con la professoressa sono risultati negativi. Adesso dovranno completare il periodo di salonamento e dopo potranno fare regolare il rientro. Intanto tutti gli ambienti sono stati sanificati, come conferma la dirigente Rosaria De Caro. Onestamente era una situazione che ci aspettavamo, perché d'altra parte avevamo messo in moto una macchina organizzativa abbastanza possente, come ho potuto anche precedentemente definire, proprio perché eravamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza. Data che la notizia di negatività dei tamponi, sia per quanto riguarda i docenti, sia per quanto riguarda anche il piccolo gruppettino di ragazzi che era stato coinvolto perché ha contatto con un soggetto positivo, questo ci tranquillizza. Quindi piano piano e lentamente le famiglie, d'altra parte, essendo più tranquille, riporteranno i bambini e quindi i ragazzi a scuola. Un episodio che è arrivato all'inizio anno scolastico, ma è una situazione con cui probabilmente bisognerà conviverci per parecchio tempo. L'appello ai genitori e agli alunni di stare sereni perché la macchina funziona. La macchina funziona, sì, senz'altro è di rispettare soprattutto quelle che sono le regole e le linee guida, perché io parto dal presupposto che mantenendo tutto quello che c'è da fare, quindi cercando di rispettare problemi nelle linee generali, dovrebbero essere molto ma molto limitati. E il Covid ha costretto agli organizzatori ad annullare la settima edizione della Maratonina del Golf, una competizione tradizionale che ogni anno richiama in città circa 500 atleti. Lo ha confermato questa mattina la società atletica Gela all'augurio e l'impegno da parte del presidente Salvatore Iovino che nel 2021 condizioni sanitarie permettendo si possa riproporre non solo la Maratonina del Golf, ma anche il trofeo delle mura. Di Molontè è anch'esso rinviato. Le due manifestazioni, infatti, oltre a rivestire carattere prettamente sportivo, servono a valorizzare e a far conoscere la bellezza storica e paesaggistica della città di Gela. Appuntamento quindi al 2021. Cambiamo argomento. Una bolletta da 6.750 euro. Recapitata ad una famiglia che vive in un'abitazione in affitto a Caposoprano, un importo talmente elevato da aver indotto gli utenti a rivolgersi ad un legale che sta valutando la possibilità di portare in giudizio Caltacqua. Fino all'arrivo di questa bolletta d'oro, la famiglia non aveva mai pagato cifre simili. Sentiamo. Bollette pazze e pesanti sospetti sulla rendicontazione dei consumi idrici sono danni all'ordine del giorno per un servizio che in città produce pesanti conseguenze economiche sugli utenti. Abbiamo già raccontato della bolletta da 1.600 euro e recapitata ad una pensionata che in media per consumi idrici ha pagato per anni una cifra mai superiore a 200 euro. La somma già fuori da qualsiasi ragionevolezza chiesta alla pensionata è poca cosa se la si confronta con quella riportata sulla bolletta consegnata ad una donna che con la propria famiglia vive in una casa in affitto a Caposoprano. Totale 6.574 euro e questa è la cifra che ha fatto subito allarmare l'utente che si è già rivolta ad un legale, l'avvocato Rosario Prudenti che sta valutando la possibilità di portare in giudizio Caltacqua ha ricevuto un mandato per agire fino ad ora con consumi molto limitati la famiglia che vive a Caposoprano ha pagato non più di 200 euro ora invece si sono visti a recapitare una bolletta da quasi 7.000 euro una vicenda l'ennesima che danneggia famiglie spesso senza possibilità di sostenere costi esorbitanti per un diritto di base che è quello all'acqua la politica intanto discute di come attivare l'assemblea territoriale idrica che sulla carta dovrebbe assicurare i controlli sull'operato di Caltacqua praticamente mai attuati o comunque fin troppo blandi nel corso del tempo con conseguenze che si scaricano inevitabilmente sugli utenti finali. Incidente questa mattina in via Lecce angolo via Urbini lo scontro è avvenuto tra una Panda e una Fiat 600 il bilancio sarebbe di due feriti, una donna e una bambina fiamme invece su un'auto che stava transitando ieri lungo il tratto di via L'Indipendenza un guasto tecnico ha fatto sviluppare fiamme e fumo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco il conducente della Citroen C3 si sarebbe subito accorto di quanto stava accadendo e arrestato la marcia. Il parcheggio di Caposoprano cambia look dopo numerosi atti vandalici di cui è stato oggetto negli ultimi tempi l'amministrazione comunale ha concretizzato l'affidamento alla Ghelas per la manutenzione straordinaria. L'amministrazione comunale questa mattina ha formalizzato e concretizzato con la Ghelas Multiservizi l'affidamento per la manutenzione straordinaria del parcheggio di Caposoprano che l'amministrazione vuole consegnare alla città. Come abbiamo fatto già per il parcheggio Arena anche nel parcheggio denominato Ospedale Sud in via L'Indipendenza che ci è stato consegnato stamattina dalla parte dell'ente comune provvederemo innanzitutto a una pulizia totale di tutto il parcheggio come avete visto, installeremo subito un sistema di videosorveglianza ad altissima tecnologia come quello del parcheggio Arena e le illuminazioni per la parte di cantiere. La parte della terrazza non ha bisogno di grossi interventi le parti invece dove ci sono grossi problemi sono gli uffici, le scale e i parcheggi inferiori, meno uno e meno due dove ormai sono un parcheggio abbandonato, ci risultano più di sei anni è successo di tutto, praticamente non ci sono più impianti, non c'è più niente quindi oltre alla pulizia iniziale che verrà fatta entro una settimana provvederemo a ripissare l'impianto elettrico, l'impianto di incendio l'impianto di rilevamento incendio e l'impianto di videosorveglianza. Speriamo di riuscire a fare tutto nel giro di sei mesi ma l'obiettivo è minore. Il parcheggio è stato oramai da diverso tempo oggetto di vandalismo ad opera di balordi che ne hanno gravemente danneggiato la struttura e quanto ne era a corredo. I lavori da eseguire sono innumerevoli ma finalmente l'area potrà beneficiare di un nuovo look e di una nuova destinazione d'uso non solo esclusivamente come parcheggio. A nostro avviso tutto il parcheggio in tutti i suoi piani è una struttura che per il solo parcheggio ovviamente mi sembra limitativo quindi si sta pensando di poter utilizzare il piano superiore per un'altra destinazione. Abbiamo già avuto incontri con altre istituzioni per concordare e condividere altri tipi di destinazione al piano superiore. Sui piani inferiori pensiamo di poter fare una convenzione con l'Asp, poter fare parcheggiare tutti i dipendenti dell'Asp con un prezzo ovviamente politico e dare la possibilità all'ospedale di poter liberare totalmente tutto lo spiazzale che c'è a distante l'area del Vittorio Emanuele. L'altro piano inferiore pensiamo di poterlo destinare alla comunità, alla città, ai residenti di Capo Soprano che potranno soffrire di una struttura ristrutturata, riqualificata, vigilata con un impianto di videosorveglianza e con un servizio anche di sorveglianza per mettere in sicurezza la struttura e le auto che verranno custodite all'interno della struttura. L'amministrazione comunale ha preventivato per i lavori di riqualificazione della struttura un impegno spesa di circa 660.000 euro anche se la GELAS a seguito del sopralluogo effettuato ritiene di poter usufruire anche di una somma inferiore pari a poco più di un terzo. Nella mattinata di oggi sono stati simbolicamente consegnati anche i lavori di riqualificazione di Vianiscemi. Già è la sesta città italiana con una stazione ferroviaria praticamente ferma senza collegamenti e con la tratta verso Caltagirone che risente ancora dei danni del passato. Il presidente locale della FIAB Simone Morgana fa il bilancio di una situazione quasi drammatica che blocca qualsiasi tipo di intermodalità. Morgana già da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle insieme al gruppo a Palazzo di Città aveva sollevato la questione di un sistema ferroviario del tutto carente in città nonostante le strutture a disposizione. La stazione locale è un'infrastruttura imponente con grande parco contenere una posizione fondamentale baricentrica per l'isola eppure verso in un totale stato di abbandono. Quello che chiediamo all'amministrazione è un impegno immediato perché oggi non si può più attendere. Da anni la stazione ferroviaria e il sistema locale vanno avanti quasi esclusivamente con trasporti di tipo commerciale necessari alla produzione industriale di passeggeri invece se ne vedono sempre meno. Una vasta area verde trasformata in discarica in via Portuenza nel quartiere di Fondo Iozza l'area probabilmente di proprietà dell'istituto case popolari da anni ormai verse in condizioni di degrado ed abbandono. Da mesi i residenti chiedono un intervento di pulizia che non arriva e adesso lanciano un appello soprattutto per la sicurezza dei loro bambini. Sentiamo. C'è ancora la periferia della città a simboleggiare lo stato di degrado e di abbandono in cui versano diverse aree a verde cittadine che prive di interventi di manutenzione e pulizia il più delle volte si trasformano in vere e proprie discariche un ricettacolo di parassiti e ratti diventando un pericolo per quei cittadini che hanno la sfortuna di abitare lì accanto. È il caso della vasta area incolta che sorge in via Portuenza nel quartiere Fondo Iozza un'area probabilmente di proprietà dell'istituto case popolari che da anni ormai versa in condizioni di degrado e abbandono. A pochi metri dall'area sorge un altro simbolo dell'incuria pubblica il Paladon Puglisi nato per trasformare il quartiere in un luogo di aggregazione e oggi invece abbandonato ai vandali e agli agenti atmosferici. Ma se per il Palapuglisi qualche piccolo intervento di messa in sicurezza è stato fatto nei mesi scorsi nulla è stato fatto invece per l'area adiacente che complice a una vegetazione fuori controllo è diventata il luogo preferito dagli incivili per scaricare ogni sorta di rifiuto. Da mesi i residenti chiedono un intervento di pulizia che non arriva e adesso lanciano un appello soprattutto per la sicurezza dei bambini. C'è scarsa visibilità se vedete proprio all'angolo i bambini qui nel condominio a partire anche da me stessa che ne ho cinque di figli giocano con le bici scendono qua sotto e giustamente le macchine sia entrando che uscendo non possono vedere i bambini quindi c'è pericolo anche per i bambini stessi togliendo i moscerini togliendo i topi che passeggiano come se niente fosse persone che diciamo al piano terra abbiamo pure una signora che soffre anche di asma quindi questa cosa giustamente gli dà fastidio io ho ricevuto la mendele dei condomini visto che gestisco la scala e giustamente mi sono sentita in dovere di chiamare anche voi inizierò a fare le mie denunce già sono intervenuti pure i carabinieri mi hanno constatato e detto che comunque è un'area abusiva cioè è stata messa su recintata abusivamente e andrò in fondo andrò a denunciare al comune vorrò parlare anche con il sindaco dai rottami di biciclette rugginiti agli inerti fino ai rifiuti comuni tra l'erba alta si trova davvero di tutto e come spesso succede qualcuno ha anche pensato bene di dar fuoco ai cumuli rischiando di far pericolosamente propagare le fiamme già è capitato più di una volta questo e giustamente noi vogliamo evitare la qualsiasi tipo di danneggiamento e danno che si potrebbe venire a creare alcuni residenti attualmente percettori del reddito di cittadinanza tra l'altro sono già pronti a mettersi a disposizione del comune per ripulire l'area nell'immediato essendo che mio marito è percettore di reddito di cittadinanza mio marito si metterà anche lui a disposizione di poter pulire se vuole però giustamente ho bisogno delle autorizzazioni la frazione organica prodotta in città potrà essere conferita nell'impianto di compostaggio a Brucazzi dopo il fermo delle ultime settimane sarà necessario rispettare i limiti e le tabelle definite dai tecnici del lato CL2 il presidente della SRR4 Filippo Balbo intanto ha chiesto a tutti i comuni di fornire indicazioni su funzionari che possano ricoprire il ruolo di RUP sia per la gara a ponte da un anno sia per quella da sette anni sentiamo la frazione organica prodotta in città ritorna nell'impianto di compostaggio di Brucazzi c'è stato il via libera tecnico da parte dei responsabili del sistema ancora in gestione al lato CL2 in piena estate il sovraccarico dell'impianto già piuttosto limitato nella capacità di lavorazione dei conferimenti ha spinto il responsabile tecnico del sito l'ingegnere Sergio Montagnino a fermare i conferimenti da Gela gli altri comuni hanno proseguito secondo le tabelle preventivate i quantitativi trasportati dai mezzi che effettuano la raccolta in città sono stati deviati verso soluzioni alternative i funzionari del settore ambiente del municipio hanno optato per una convenzione che ha permesso di trasferire rifiuti fuori regione negli ultimi giorni è arrivata l'autorizzazione alla ripresa per l'impianto di Brucazzi ma solo per quantitativi da tabelle senza surplus probabilmente per il resto proseguiranno i viaggi fuori regione negli scorsi mesi il sindaco Lucio Greco aveva firmato un'ordinanza che nel tentativo di bloccare un'eventuale emergenza rifiuti in città disponeva l'uso praticamente illimitato del compostaggio che poi è andato in blocco scatenando non pochi malumori tra i sindaci degli altri comuni dell'ambito intanto il neopresidente della SRR4 il sindaco di Butera Filippo Balbo conferma che tra i piani sia della SRR che della Impianti SRR e la società in-house c'è appunto un progetto per l'ampliamento del compostaggio che è previsto nel piano industriale della Impianti SRR se ne parla da tempo anche perché l'attuale sistema di Brucazzi non riesce a rispondere alle richieste di tutti i comuni dell'ambito prima però bisognerà valutare anche il piano economico finanziario predisposto dalla Impianti SRR allo stesso tempo Balbo spiega che per quanto riguarda il fronte delle gare d'appalto ha chiesto a tutti i comuni dell'ambito di fornire nominativi di funzionari che possano ricoprire l'incarico di RUP anche della gara da sette anni il comune di Gela attraverso il sindaco Lucio Greco aveva avanzato l'ipotesi dell'attuale dirigente all'ambiente Grazia Cosentino al momento però la soluzione è stata congelata Maurizio Melfa lascia la carica del presidente del Gela un atto dovuto per sgomberare il campo da qualsiasi sospetto o rumors su presunte incompatibilità una decisione maturata a conclusione di un vertice che si è svolta alla presenza di soci del club Biancazzurro è stato lo stesso Melfa poi a lanciare un post sui social per confermare la decisione durante la conferenza stampa di presentazione come consulente esterno per lo sport e lo sviluppo economico della giunta greca Melfa aveva per un attimo trascurato la ploma inglese per rispondere a chi lo accusava di conflitti di interesse presunti su Facebook le motivazioni invece della decisione la cultura del sospetto la cattiveria e malpensanti presenti in città mi inducono mio malgrado per effetto della mia nomina consulente per lo sport e lo sviluppo economico del comune di Gela a rassegnare le dimissioni da presidente del Gela Calcio ottimisticamente voglio immaginare una città che riesca a crescere culturalmente ad accogliere positivamente chiunque voglia fare del bene in qualunque veste mi impegno fino ad ora con tifosi in primis calciatori e dirigenza tutta a mantenere il mio sostegno anche economico affinché il progetto pluriennale di crescita del Gela Calcio continua la stessa stregua di come se io fossi presidente passiamo alla cronaca giudiziaria sono state pubblicate le motivazioni che lo scorso giugno hanno indotto i giudici di Cassazione a confermare la condanna a 24 anni di reclusione imposta al niscemese 42enne Giuseppe Ciglio ritenuto il killer dell'allora 22enne Orazio Sotti ucciso nel dicembre di 20 anni fa per i giudici romani l'ipotesi di pista alternativa non ha fondamento sentiamo Nella dicembre di 20 anni fa il niscemese Giuseppe Ciglio uccise l'allora 22enne Orazio Sotti finito a colpi di arma da fuoco davanti alla garage della sua abitazione a fondo iozza la condanna a 24 anni di reclusione diventata definitiva lo scorso giugno non ci fu premeditazione come indicato anche dalla difesa dell'imputato sostenuta dall'avvocato Salvo Macri secondo i giudici romani di Cassazione però Ciglio avrebbe deciso di vendicare la relazione sentimentale che il giovane operaio aveva avuto sia con la sua fidanzata sia con quella del fratello anche Salvatore Ciglio il fratello di Giuseppe finì a processo accusato di essere coinvolto nell'omicidio ma venne assolto sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che hanno indotto i giudici di Cassazione a non accogliere quanto riportato nelle circa 80 pagine del ricorso presentato dal legale di Giuseppe Ciglio che ha messo in discussione diverse conclusioni definite dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta che rivide la condanna riducendola a 24 anni a fronte dell'ergastolo che era stato imposto dai giudici della Corte d'Assise Nissena secondo i giudici di Cassazione non si scorgono crepe ricostruttive in quanto stabilito in appello escludono la fondatezza di piste alternative che invece sono state avanzate dalla difesa secondo il legale del 42enne Nisce Mese non ci sarebbero mai stati elementi certi per collocarlo sul luogo dell'omicidio anche la dinamica di quanto accaduto è stata messa in dubbio nel ricorso che ha inevitabilmente richiamato l'assoluzione di Salvatore Cilio in base a questa linea quella a verdetto favorevole avrebbe dovuto indurre i giudici romani a riconsiderare la posizione dell'imputato la Cassazione come traspare dalle motivazioni ha però accolto quanto stabilito dalla Corte d'Assise d'Appello pur ammettendo l'assenza di premeditazione Giuseppe Cilio quindi non avrebbe organizzato un piano dettagliato ma avrebbe dato seguito ai suoi impulsi violenti così li definiscono i giudici cercando in questo modo di vendicare quello che ai suoi occhi era stato un affronto i familiari della vittima nell'intero procedimento sono stati parti civili hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni ad una provvisionale sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Cascino Francesco Minardi e Maria Cascino furono i genitori della giovane ucciso a chiedere che si facesse luce su un'atroce morte del tutto estranea ad ambienti criminali è rimasta avvolta nel silenzio per diversi anni il 23enne gelese Giovanni Fidone si è classificato al terzo posto nella Champions Barber Cup gareggiando in qualità di capitano del team Sicilia sfidandosi con oltre 300 partecipanti provenienti da ogni regione d'Italia sentiamo sul podio nazionale della Champions Barber Cup concorso nazionale per barbieri e parrucchieri si classifica al terzo posto l'unico gelese in gara Giovanni Fidone ottenuto a febbraio il passo per le finali nazionali Giovanni il 20 settembre raggiunge Cinecittà World alla conquista del podio nazionale in qualità di capitano del team Sicilia sfidandosi con oltre 300 partecipanti provenienti da ogni regione d'Italia essere l'unico rappresentante anche gelese come portare una vittoria nella tua città rappresentare la mia città è una delle mie più grandi soddisfazioni è stata un'emozione bellissima in quest'ultimo concorso hai rappresentato la Sicilia e ti sei diciamo presentato alle fasi nazionali in qualità di capo squadra capo team della Sicilia come è stato confrontarsi con tutti gli altri partecipanti provenienti dal resto dell'Italia è stata un'esperienza bellissima perché trasmettere le proprie emozioni davanti a tantissima gente a tantissimi colleghi è stata un'emozione bellissima bellissima Giovanni Fidone 23enne figlio d'arte riserva impegno e tenacia al mestiere di barbiere sin dalla giovane età di 12 anni dopo aver seguito corsi di formazione in tutta Italia e ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi appare piuttosto determinato nella sua grande passione di parrucchiere una professione nella quale ha trasfuso tutto il suo impegno raggiungendo una competenza di elevato livello professionale ho iniziato a fare le prime barbe a 12 anni poi già a 15 anni tra i capelli sto girando tutta l'Italia per fare dei corsi formativi e pure gare dove ultimamente mi sono classificato terzo in una gara nazionale chiamata Champions Bible Cup a Roma ora prossima settimana partirò per andare a Roma dove svolgerò un corso formativo e fra tre settimane saremo di nuovo a Roma a fare una gara internazionale determinazione competenza e professionalità sono le qualità principali che il padre ha instillato giorno dopo giorno nell'animo di Giovanni e che sino ad oggi gli hanno consentito di ottenere grandi risultati Giovanni rappresenta uno dei talenti gelesi che nonostante le difficoltà del mondo lavorativo non demorde dall'obiettivo di far emergere il proprio nome ed affermarsi in questa professione Buon pareggio per il football club Gela sul campo dell'Ico di Obea sotto un gol nel primo tempo la formazione di Ciccio Evola riesce a trovare il pari nella ripresa con Giacquinta gara complicata al Franco Vassallo per via di un fondocampo insidioso in terra battuta Evola lancia il primo minuto Giannizotto titolare con Alabiso punta centrale ferlito inizialmente in panchina dopo il vantaggio di Dama il Gela football club ha cercato con insistenza il gol del pari che lo stesso Giacquinta ha sfiorato più volte poi nei minuti finali è arrivato il pari meritato in classifica Gela football club a 4 punti in classifica dopo 2 partite è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito grazie per averci seguito